Domanda, perché questo bambino non è morto? Perché nel programma della sua vita la legge non aveva previsto che morisse. Allora, a chi è servito questo evento? Servirà al bambino, per quello che ricorderà, ai soccorritori, a quelli che vedranno questo video e a tutti quelli che verranno a sapere di questa notizia, perché nulla accade inutilmente.